ciao a tutti sono l'attore italiano massimiliano rossi sarò presente alla prima edizione del festival internazionale d'arte cinematografica i nuovi fest 2021 in qualità di giurato della selezione speciale colonna sonora aquila reale d'oro invito tutti ad essere presenti dal 24 agosto al 2 settembre per assistere alle varie proiezioni e invito tutti gli artisti ad iscrivere la propria opera alla prima edizione del festival internazionale d'arte cinematografica i nuovi fest 2021 ci vediamo lei